Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Quest'oggi andiamo ad analizzare il video del lunedì, molto croccante perché ci andiamo ad affacciare alla nuova edizione di FIFA. Come da titolo sta arrivando FIFA 22 perché in questo periodo solitamente danno qualche indicazione sul nuovo gioco che uscirà, credo, credo a settembre come ogni anno, oppure ottobre. E quindi siamo addirittura ad arrivo con queste edizioni FIFA 21 e questo è un video che ho sempre fatto nel corso degli anni, sperando che il Pro Lab possa cambiare sempre e comunque e progredire con l'avvento della prossima edizione. FIFA 21 è stato comunque un'edizione di transizione proprio perché sapete che con l'avvento delle nuove console, soprattutto con l'avvento della PS5, c'è stato un momento in cui non si sapeva se si dovesse passare tutti su PS5, se avessero quasi tutti la nuova console e giocare lì, se ci fossero stati cambiamenti, se fossero veramente mutate le versioni da PS4 e PS5 eccetera eccetera. Quindi è stato un momento di caos, però andiamo prettamente ad analizzare il gioco. Il gioco comunque è stato abbastanza innovativo rispetto all'anno scorso, rispetto agli altri anni, almeno all'inizio. Poi sempre come al solito con le varie patch ci sono state una sorta di innovazioni che però hanno, alla fin dei conti, sempre di più appiattito il gioco. Dal punto di vista tecnico, patchando delle cose che funzionavano all'inizio dell'anno, purtroppo succede sempre così. Dal punto di vista invece di patch, per quanto riguarda il Pro Club, nelle migliorie si è fatto veramente veramente poco. Forse è l'anno degli ultimi dove veramente si è fatto poco 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 per settare quelle che sono state i bug e le mancanze. Ma non stiamo lì sempre a piangere perché, alla fin dei conti, basta che si gioca, basta che non ce lo tolgono sto Pro Club. Io sono pronto per FIFA 22 e sono convinto che, stando a guardare quello che sarà il nuovo setting di motore grafico per quanto riguarda PES con Unreal Engine, FIFA dovrà stare al passo e, secondo me, dare qualche bomba da quel punto di vista e fare una differenza sostanziale tra quello che sarà il gioco di PS4 e quello che sarà il gioco di PS5. Prima di andare a vedere cosa manca effettivamente su FIFA 21 e cosa vorremmo vedere su FIFA 22, volevo analizzare al volo quello che è FIFA 21, soprattutto dal punto di vista tecnico, cosa manca. Questo è stato il gioco degli autoblock, ragazzi, quindi quando si faceva un'azione per andare al gol, il difensore avversario si opponeva anche sulla linea di porta in maniera automatica. Questi movimenti automatici dei difensori hanno comunque un po' limitato quella che era la spettacolarità del gioco e la possibilità di vedere più gol all'interno di un match, sia di futta anche, ma soprattutto di Pro Club. Quest'anno o più degli altri anni ci stavano dei lock casuali, cioè se tu crossavi, non crossavi con l'intenzione in maniera manuale di predisporre la palla ad un determinato giocatore. A volte lockava gente a caso, quindi non avere riferimenti in questo senso è stato veramente, veramente limitante. Su Pro Club hanno sempre funzionato i lanci lunghi, ma quest'anno erano super buggati perché L1 triangolo da difesa poteva essere effettivamente un filtrante per un gol. Facile, facile. E questo non può accadere dal punto di vista proprio di meccaniche, nel senso il lancio lungo, sappiamo benissimo, nel calcio reale non arriva in maniera super tesa e indifendibile a volte. Invece in questo gioco arrivava a volte perfetto per la corsa, il difensore avversario poteva fare poco e non intervenire e si concludeva in rete con un passaggio solo. Però ovviamente ha avuto anche delle note super positive secondo me, come quello di avere la possibilità di gestire la palla con più facilità rispetto agli altri FIFA. Mi sono messo a guardare delle partite di FIFA 17 e FIFA 18, per alcuni casi, alcuni contesti, alcune azioni ho visto un gioco superiore, ma per altre cose come per esempio la fase di possesso, quindi gestione, palla coperta, palla scoperta, palla da destra, sinistra e viceversa. In questo gioco ci sono stati dei miglioramenti netti, ve lo posso assicurare. Ogni squadra aveva la possibilità di giocare in contropiede ed era molto molto efficace, o comunque poter gestire la palla e cercare di fare una trama molto molto lunga, aumentando il possesso e aumentando la possibilità di segnare. Tutto questo ovviamente è super collegato con la gestione dei passaggi, gestione palla, ossia passaggi molto buoni, che a volte, come abbiamo detto prima, non locca tra virgolette in maniera giusta, però i passaggi, anche quelli tesi, erano molto molto precisi. Proprio per questo io darei una spunta positiva per questo aspetto. E poi, da non sottovalutare questa cosa perché è stato un vero problema negli scorsi FIFA, in questo FIFA si poteva giocare sia con il bot alto sia con il bot basso. Questo è importantissimo ragazzi perché mi ricordo un FIFA dove tutti giocavano 1,92 e non stiamo parlando solo dei giocatori difensivi, bensì anche quelli che giocavano in attacco. Si sono visti vari bot, anche come proprio setting, alti 1,92, alti 1,62, alti 1,77, c'è stata una varietà che comunque ho apprezzato molto. Anche perché abbiamo portato più contenuti e voi avete gradito. Quindi, come ogni gioco, come ogni ambito, ci sono i pro e ci sono i contro. Ma in tutto questo noi abbiamo analizzato solo la parte tecnica. Adesso andiamo ad analizzare invece la parte proprio dell'ambito Pro Club e cosa servirebbe in più, oltre l'aspetto tecnico, a questa modalità. Vediamo cosa manca e cosa va aggiunto in FIFA 22. Via! Ragazzoni, eccoci qua e ringraziamo VirtualProGaming perché questo video è nato dall'intento di tradurre quello che era, tra virgolette, il concetto di un post che è uscito su Twitter, di questo portale che comunque ormai vive nel Pro Club da tantissimo tempo. È dato degli input interessanti che volevo analizzare. Hanno giustamente pensato che in FIFA 22 ci dovesse essere la possibilità di partecipare a una Weekend League del Pro Club. Vedete qua vicino a me una schermata dove si può ipotizzare un setting dove poter scegliere di partecipare alla Weekend League e avere altri tipi di stats, altri tipi di informazioni. La Weekend League, ovviamente, aggiungo a questa nota che hanno inserito loro, potrebbe anche avere un altro format, potrebbe avere anche un'impostazione che non duri solo tre giorni. Pensi potrebbe essere una Weekend League allungata, potrebbe abbracciare anche il giovedì, potrebbe essere veramente una Week Pro Club. Cioè una settimana di quattro al mese dove si compete e puoi partecipare tutti i giorni per inserirti in una ipotetica classifica mondiale, europea, regionale, quello che sia. Il riparto competitive che manca perché giocare in divisione, giocare in Coppa, giocare solo in amichevole, alla lunga stanca, purtroppo è così. Non me ne vogliano tutte le competizioni nazionali che sono esterne da Electronic Arts, ma noi necessitiamo a tutti i costi che quest'ultima faccia dei tornei ufficiali Electronic Arts. Così da dare un'immagine più professionale a quello che è il nostro ambito. C'è poco da dire, siamo dei giocatori di Serie B di FIFA. Ad oggi questo è il prospetto. Altra nota da sottolineare è ovviamente la panchina. Sono tantissimi anni che si chiede, ma quando si inserisce la panchina per far giocare più persone all'interno di un match? Anche per dare, non so, delle forze fresche nel secondo tempo, dove i bot stentano ad avere una stamina sufficiente per poter giocare gli ultimi minuti. Anche per avere una rosa più ampia e dare l'opportunità a più giocatori di incidere su un match. Io su questo punto non sono proprio convinto che serva al 100%, però effettivamente potrebbe essere una miglioria carina e potrebbe soddisfare tantissimi player pro club. Prendiamo un'altra schermata che ci hanno fornito i ragazzi di Virtual Pro Gaming, quella di scegliere il player con cui giocare all'interno del gioco. Questa cosa qui io sono convinto che non serva tantissimo, perché il pro club è proprio bello poiché si è esclusivi e non si scelga un giocatore reale, come in questo caso vedete in basso a sinistra animare. L'esclusività del bot, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista di skill points, è il punto di forza di questa modalità e non lo cambierei mai. Probabilmente sì, magari dare la possibilità di scegliere tra vari setting non solo dal punto di vista di skill points, ma anche dal punto di vista estetico. Cioè noi abbiamo 5 slot per scegliere DC, ATT, GK, Terzino. Perché non metterlo anche dal punto di vista estetico? Non credo che sia un qualcosa di impensabile. Però la cosa interessante che abbiamo detto anche su Instagram è che potrebbe essere un'idea avere un'impostazione della lobby magari simmetrica come vediamo qui. Possiamo anche vedere a volo quello che è stato il video della storia Instagram e ditemi qua sotto nei commenti se siete d'accordo. Un'altra cosa interessante secondo me che dovremmo ritrovare all'interno di FIFA 22 sarebbe sicuramente la cronologia di edizione. Queste sono due parole che ho conciliato io e secondo me rendono specifico proprio il tema che sto per analizzarvi. FUT ha una sua cronologia di edizione. Questo vuol dire che tu parti con la squadra di FUT con i bronzini, gli argentoni, i giocatori oro, quelli base, per poi ambire ad avere una squadra full icon, con dentro dei tots, con giocatori più forti al mondo. E questo succede in ogni FIFA. L'unica cronologia che abbiamo invece su Pro Club è raggiungere magari la divisione 1 e raccimolare più coppie possibili. Ma questo non basta. Dovremmo avere una sorta di stimolo affinché ogni edizione si riparta col Pro Club da zero. Sì ok, avere il bot con zero carte, sbloccarle e aumentare le sue stats potrebbe essere considerata una cronologia di edizione, ma non questo implica che ci sia un motivo per giocare fino a luglio-agosto. Magari avere delle deadline, magari avere degli eventi, non per forza fisici ci mancherebbe, ma anche multimediali, potrebbe dare uno scopo, una voglia in più di accendere FIFA per giocare a Pro Club. Un'altra cosa interessante che vorrei vedere in FIFA 22, io ovviamente parlo in nome di tutti, spero che siate d'accordo, è avere delle linee guida più specifiche e più comprensibili e dettagliate. Sì perché finora c'è stato un copio e incolla nelle varie edizioni, dove si ripetevano tutte le regole basiche scritte in pochissime righe. Per quanto riguarda le nozioni del Pro Club, cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa va contro le regole di Electronic Arts, perché vengono imposte, qual è lo scopo. Insomma, regolamentare il più possibile quello che è il comparto Pro Club. Un po' come succede nelle altre modalità, come la carriera o come il foot. Almeno io so quale video posso portare, a quali tornei posso partecipare, così da avere ben chiaro a tutti come muoversi nel Pro Club. Ultima nota che volevo enunciarvi riguarda invece le futures, che sono poi le caratterizzazioni del gioco. Vediamo a fianco a me lo scorrere magari di alcune immagini dove facciamo vedere delle caratterizzazioni che potrebbero essere incluse all'interno di FIFA 22. Potrebbero esserci ovviamente nuove caratterizzazioni specifiche, personalizzazioni, come creazioni di loghi in maniera più organica, avere delle maglie esclusive, avere degli stati magari per ciascuna squadra differenti, avere, non so, i tatuaggi, avere altri edit. E un comparto editor migliorato. Insomma, sono tre anni che abbiamo lo stesso prospetto, la stessa facciata, cambiata solamente del background, no, tra un gioco e l'altro. Abbiamo bisogno che essi includano novità, dal punto di vista non solo meccanico, ma anche dal punto di vista estetico, per dare un senso, ripeto, come ho già detto prima, a chi accende FIFA di andare a vedere, insomma, cosa succede all'interno del Pro Club, seppur si preferiscano magari altre modalità. Fatemi sapere qui sotto se siete d'accordo, se avete in mente altre cose. Spero che vi sia piaciuto il video, andiamo ai saluti. Ragazzi, anche per quest'oggi abbiamo finito con il video, spero che vi sia piaciuto. Lasciate il like, attivate la campanellina qui sotto per questi tipi di video, molti, molti altri. Il Pro Club su YouTube siamo noi, ma cerchiamo di incrementare ancora il seguito. Condividete questo video e molti altri su WhatsApp, su Telegram, dove volete voi, perché la vostra spinta è importantissima. Volevo fare una nota prima di chiudere questo video. Siamo sicuri che la via migliore affinché si progredisca in questo senso con il calcio virtuale sia migliorare il Pro Club? Io non sono tanto sicuro. Noi viviamo per il Pro Club, perché questo canale, vedete, ha la sua dicitura all'interno proprio del nome del canale, ma se il Pro Club fosse uno spunto per un altro Pro Club? Chissà. Con questo dubbio amletico vi lascio così pensare. Un saluto da Johnny. Ciao.